La sentenza si è già vista, l'abbiamo già di fatto sviscerata, si può approfondire un po', però il tema vero è che il governo è letteralmente da questo momento appeso a un filo, io sto così, faccio così e il governo cade. E che il governo stia appeso a un filo è, secondo me, certificato non solo dalle cose che abbiamo visto e sentito, ma dal fatto che tutto, diciamo, lo Stato maggiore, chiamiamolo così, del PDL si è riunito subito con Berlusconi. Credo che stiano decidendo, anzi sono sicuro di questo, la strategia da adottare da qualche mezz'ora in poi, nel senso che le cose stanno precipitando. Le dichiarazioni di Epifani non facilitano un percorso, diciamo, non dico lento, ma anche in questo caso uso la parola giusta, ordinato di un'eventuale transizione, anzi sono un'accelerazione. Mi chiedo con chi si sia consultato Epifani, tra l'altro, cioè se abbia, diciamo così, consenso in tutto il partito per fare una dichiarazione di questo tipo, che in realtà è abbastanza dura, cioè non gli era richiesto dire alcune cose. Parliamoci chiaro, ha parlato subito. Perché ha il problema del suo elettorato. Aspetta però, Marco, ha parlato subito. Ato è, in termini politici, non era tenuto a farlo. Vorrei ricordarlo che anche i silenzi in politica hanno un senso e sono un segnale. Invece lui ha voluto mandare un messaggio subito, di dire che vota per l'interdizione, quindi per la decadenza, se ci sarà bisogno e così via. E anche il fatto che abbia calcato la mano sulla questione, o meglio, l'abbia segnalata, diciamo, nel suo discorso, sull'eseguibilità della sentenza, tolte le cose che ha detto Travaglio, che fanno parte, diciamo, un po' del personaggio. Ma in realtà, no, sono un segnale. Certo che Pifani non esegue niente, non penso sia così ingenuo. Però dice, va fatto, va fatto, attenzione, eseguibilità che cosa significa? Perché ragioniamo su che cosa succede nelle prossime ore. La sentenza si può tranquillamente eseguire, appunto. E che significa, che cosa succede a Silvio Berlusconi? Che arrivano i carabinieri a Palazzo Grazioni. Capito? E questo è il punto. Allora, chiamiamo le cose con il loro nome. Questo è un momento drammatico. Allora, in realtà...